Si apre una settimana complicata per il governo ricca di ottime occasioni per i partiti e i loro regolamenti di conti. Mentre Draghi concentra le energie sulla manovra, i partiti discanneranno sul ministro dell'interno e sulla mozione per sciogliere forza nuova. E faranno i conti, al loro interno, sui risultati dei ballottaggi. Con un occhio attento alle strane piazze che sfidano l'ordine pubblico con sempre più contraddittorie posizioni sul Green Pass. Mario Draghi apre oggi una settimana chiave del suo mandato. Mentre la larga maggioranza che lo sostiene farà i conti politici con i ballottaggi, con le informative del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, martedì in aula, e con i voti del Parlamento, mercoledì, sulle mozioni per lo scioglimento di forza nuova, la richiesta di farlo subito sembra già essere stata messa da parte. Il Premier affronta uno dei dossier più delicati e divisivi, la legge di bilancio. Uno di quelli su cui maggiormente i gruppi di opposizione lo aspettano al Varco. Sapendo che non ci saranno sconti neppure dalle forze di maggioranza. Sempre più convinto che, il governo debba governare mentre i partiti possono anche discutere e dibattere, due mestieri diversi, il Premier non rallenta neppure di un secondo la marcia del suo cronoprogramma già aggravato da qualche rinvio e fin troppe discussioni. Revisione del reddito di cittadinanza, riforma degli ammortizzatori sociali, del fisco e il taglio del cuneo sono i temi su cui sarà più difficile trovare una sintesi. Grazie a tutti.